Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, io sono la vite vera e il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato, rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettono nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Rimanete in me e io in voi. Tempo fa, saputo di un ragazzo di buona famiglia, che però ha combinato dei guai e si è trovato in carcere. Oltre al dispiacere per sé, soffriva molto proprio per aver disonorato la sua famiglia e ha pianto e ha chiesto perdono e di tanto in tanto scriveva ai suoi familiari, mandatemi un segno che mi avete perdonato. Una volta arrivò una lettera, la aprì, era emozionato e vide che dentro c'era una fotografia e questa fotografia, guardando bene, a un certo punto aveva un buco rotondo. Guardando meglio, vide che avevano tagliato via la sua immagine dalla fotografia. So che quel ragazzo poi in seguito ha avuto molti problemi, molto senso dell'abbandono. Ebbene, Dio non elimina nessuno dal suo cuore, nessuno. Siamo scritti sul palmo della sua mano, come dice il profeta Isaia. Noi siamo parte di Lui e tutto quello che noi siamo viene da Lui, da questa linfa vitale che da Lui fluisce dentro di noi, appunto, come i tralci di una vite. Mi indispettisco talvolta perché mi sembra di non riuscire a farmi capire quando parlo della bellezza di essere tralci uniti a questa vite che è il Signore Gesù. Perché io parlo, per esempio, di vita di fede e si capisce pratica religiosa. Oppure, insisto, per dire, non so, dimensione spirituale e si capisce invece qualcosa che ti cava fuori dal tempo, dallo spazio, dalla tua vita normale di tutti i giorni. Oppure parlo di portare frutti buoni e subito si pensa alla morale. Ecco, io invece vorrei far capire di più questo dono che chiamiamo anche grazia. Grazia appunto perché non è merito nostro, anzi Gesù sottolinea, senza di me non potete fare nulla. Cioè è Lui che ci porta. In un'altra parabola il Signore dirà che dorma o che vegli il seme cresce da sé. Per la forza che ha dentro, in questo caso, stando all'allegoria della vite che ha proprio nelle radici e nel tronco della vite. E allora che cos'è la grazia? Ma la grazia è un dono straordinario che ci fa persuasi che siamo davvero figli. Ma non per modo di dire perché siamo creature, quindi si dice siamo figli. No, no, no. abbiamo contratto una parentela è poco, una figliolanza. Ecco, e Gesù è fratello, lo Spirito vive in noi. Tutto quello che noi facciamo in qualche modo è come se fosse fatto dal Signore. Pensate, solo una cosa può toglierci da questa dinamica di vita ed è il peccato. Ma abbiamo sempre la possibilità, appunto perché Dio non cancella il nostro volto, sempre la possibilità di ricominciare. E allora mi piace molto in questa allegoria l'immagine di un Dio contadino. Non mi fa paura, anzi vedo che lascia da parte il suo scetro e prende in mano la zappa per farmi crescere. Non sta sul suo trono, ma si siede lì sul prato, sul muretto e guarda la sua vite, i suoi tralci con fierezza. Mi piace anche pensare che in Gesù quel vignaiolo si è fatto vite. È una cosa sola con me. Allora penso proprio che non devo aver paura di lui, ma anzi essere fiero. Lui crede in me, lui crede in me. C'è il discorso della potatura. La potatura non è assolutamente amputazione. Si pota per purificare, si pota per rafforzare. Ecco il risorto sogna che la sua vite si espanda sul mondo intero, lo abbracci intero. e vuole che ogni tralcio porti dei segni di amicizia, di condivisione, di giustizia. Propriamente venivo, racconto un episodio piccolo, ma vale anche per, vale soprattutto per le cose più importanti, ma intanto la nostra vita è una vita semplice. La persona che mi ha accompagnato in macchina qui questa mattina e a un certo punto stiamo per arrivare a un semaforo, vedo che frena e poi va un po' indietro con la sua macchina. Dico, ma dai che abbiamo tanta fretta. Dice, ma no, c'è un'auto che sta per immettersi sulla strada principale e ferma lo stop e quello non passerà mai più, con tutta la coda che c'è. Gli faccio posto. Beh, è una cosa piccola, voi direte. Però ho visto la persona, aveva abbassato la mascherina e si è proprio illuminato il suo volto. Come dire, oggi la giornata mi comincia bene. Anche se quella persona non la conosco, è così. Tanto buon umore, è stato liberato. ripeto, piccolo fatto, piccola cosa, però se restiamo in Gesù, se restiamo come tralci nella vita di frutti di questo tipo di esperienze, ne facciamo tantissime, vivere la sua parola, rimanete in me, cioè rimanere nella sua parola, ascoltarla, maturarla dentro e dobbiamo proporcelo per questa settimana. Io in te, Gesù, tu in me, una cosa sola. Buona settimana! Grazie! Grazie! Grazie!